Sono stati acciuffati i componenti della banda che lo scorso ottobre si erano resi responsabili di una drammatica rapina con sequestro di persona ai danni di una coppia di anziani. Questa mattina è stata eseguita l'ordinanza a carico di nove persone. In carcere sono finiti Gianluca Terrana, di Termini Merese, ritenuto il capo della banda, Antonino Labua, anche egli di Termini Merese, e Robert Costantina Ioanni, Julian Georgian Atos ed un minorenne, tutti di nazionalità rumena. Agli arresti domiciliari Giuseppe Augetto e Francesco Lamia, di Termini Merese, obbligo di dimora per Franco Galati, Rando, di Tortorici e Angelo Incardona, di Campo Felice, di Rocella, ambedue considerati basisti. Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, i malviventi incappucciati e armati di Coltello e Mannaya hanno sorpreso nel sonno marito e moglie di Capodorlando, in vacanza nella loro casa di campagna tra Uclia e Floresta, derubandoli di tutto ciò che di valore i due possedevano, compresi i gioielli che avevano addosso. Si sono poi fatti consegnare le chiavi dell'abitazione di Capodorlando e storcendo loro i dettagli necessari per trovare e aprire la cassaforte. E mentre una parte della banda raggiungeva Capodorlando e svuotava il secondo appartamento, i compari sequestravano in casa le loro vittime. Se ne sono andati solo dopo lunghe ore di terrore, portando via telefonini e persino l'auto di famiglia. Il gruppo era perfettamente organizzato e autore di molti altri furti in abitazioni per lo più ville e isolate. Dal gergo militare utilizzato la denominazione dell'operazione linea d'addio, attuata dagli uomini del commissariato di Patti, coadiuvati dalle squadre mobili di Messina e Palermo e dai commissariati di Capodorlando, Termini Merese e Partinico. La misura cautelare è stata emessa dal GIP Andrea La Spada su richiesta del sostituto procuratore di Patti, Giorgia Orlando.